come uscito all'inizio del video ragazzi io non mi assumo responsabilità per l'uso che fate di questa cosa ok è una cosa che va oltre ogni immaginazione di conseguenza non mi assumo responsabilità non so chi volete spiare cosa volete fare ma sappiate che non è legale e salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video di guido tramontano un saluto a tutti i miei iscritti e benvenuti a quelli nuovi che stanno guardando questo video se avete iscritti mi raccomando fatelo con un bel click qui sotto qualche giorno fa un'azienda asiatica mi ha contattato ha detto esplicitamente che voleva collaborare con me perché aveva visto il mio video precedente che è uscito circa tre settimane fa su come spiare contatti whatsapp o meglio non era una vera e propria spia ma un monitorare quelli che erano gli accessi dei propri partner ebbene questa azienda mi ha scritto esplicitamente che aveva un modo assoluto per entrare nel telefono di una persona e leggere conversazioni messaggi rubrica guardare fotografie addirittura registrare in surround quello che sta accadendo intorno al dispositivo anche se noi siamo qui e il nostro compagno o compagna è in francia qualsiasi cosa voi volete fare con questo software potete farlo bene adesso vi farò vedere come funziona il tutto l'applicazione del software di interesse si chiama spicy non si trova sul google play store ma vi lascerò il link in descrizione qui sotto il mio link del canale telegram e canale facebook mi raccomando iscrivetevi o seguitemi se non lo state già facendo cosa fondamentale ragazzi è da capire questo scusatemi se il video durerà tanto ma non potevo evitare di dire determinate cose all'inizio del video di conseguenza questa applicazione adesso vi farò vedere come funziona c'è bisogno per forza di un computer e dello smartphone della versione che vogliamo spiare ok a un costo a me è stato dato ovviamente l'account premium per provarla l'ho provata parecchie volte in questi giorni ed è una cosa assolutamente incredibile mai visto una cosa del genere a un costo che non è poco ti puoi sbloccare il 50 per cento delle funzioni se vuoi al costo di 30 euro al mese e al costo di 40 euro a mese tutte le funzioni voi direte un'assurdità ebbene no considerando che ci sono persone che con il dubbio vanno a spendere migliaia di soldi di euro in agenzie private di monitoraggio l'applicazione è del tutto anonima una volta installata sul dispositivo che vogliamo controllare la persona in possesso di quel dispositivo non si accorgerà né mo e né mai che lo si sta monitorando e la cosa fondamentale e incredibile è il fatto che comunque questa applicazione non si può scovare da nessuna parte e soltanto voi potrete tramite computer decidere quando smettere di monitorare quella persona ma bando alle ciance passiamo al computer per mostrarvi effettivamente il succo di questo discorso mi raccomando occhiaverti e seguite ogni cosa che vi dico ok ragazzi eccoci passati sullo schermo del pc molto bene come detto in descrizione troverete un link che dovrete aprire dal pc io ovviamente giuro aperto ed è qui in safari vediamo come si installa un'applicazione simile facciamo finta di voler spiare il mio dispositivo metto 18 l'età maggiore massima e il sistema operativo che è android cliccando su prossimo mi dice in maniera anche in italiano cosa devo fare passaggio per passaggio prima cosa inserire l'interfaccia di impostazione fare clic su sicurezza aprire fonti sconosciute fare clic su ok all'interno praticamente del dispositivo dobbiamo cliccare su origini sconosciute e tappare questa informazione se avete un dispositivo di almeno due anni a questa parte c'è anche nelle menu impostazioni il tasso ricerca cliccate ricerca origini sconosciute tappare la cosa tutte queste impostazioni sono opzionali come c'è scritto qui in blu e di conseguenza non ci interessa seconda cosa scaricare installare l'applicazione di monitoraggio da spicy questa qui dovete cercarla dal browser del vostro dispositivo quel dispositivo che volete non vostro personale il dispositivo che voi volete spiare una volta fatto ciò cliccate su prossimo io già l'ho fatto ed eccoci qua attivato il servizio di monitoraggio sul telefono di destinazione come si fa praticamente una volta installata l'applicazione vi uscirà l'icona all'interno del menu cliccando qui date la password e la mail di accesso con i quali vi siete registrati sul sito spicy cliccando su grant voi avete praticamente poi di fronte a voi una serie di icone come questa col mouse che vi sto indicando dovete sempre cliccare su consenti sarà un insieme di clic per circa 6 sbarra 7 volte da dover fare dopodiché si cliccherà in questa icona avvia il monitoraggio una volta cliccato su avvia il monitoraggio sempre dal dispositivo che volete spiare di conseguenza vi consiglio di avere quel dispositivo solo per voi magari trovate il momento giusto in piena notte non lo so per almeno 10 15 minuti è una cosa che ci vuole all'incirca 10 minuti una volta cliccato su avvia il monitoraggio l'applicazione scomparirà dal dispositivo che si vuole spiare nel senso che l'utente spiato non saprà che è spiato e non potrà mai e poi mai trovare l'applicazione e cancellarla come detto prima non si trova nessun file all'interno del dispositivo una volta cliccato su completa la procedura è completata e andrete reindirizzati su quello che è il vostro dashboard personale come potete vedere qui ci sono in questa pagina tutte le informazioni utili davvero davvero tutte le informazioni spi si mi aiuta a proteggere i miei figli e questo è importante anche questo è vero perché in realtà potete inserirlo al di sopra dei vostri all'interno dei dispositivi dei vostri figli e di conseguenza a tenere traccia anche di ciò che i vostri figli stanno facendo con uno smartphone in realtà quindi di conseguenza non è proprio una brutta cosa ovviamente ripeto non è legale la cosa fondamentale di questo software e ribaidisco è una cosa straordinaria è che all'interno del telefono non c'è traccia di tutto ciò io sapete quanto adoro smanettare quello smartphone ebbene ho cercato in tutti i file system in tutte le librerie possibili e immaginabili del nostro smartphone per chi non conoscesse le librerie è un linguaggio informatico ebbene tutto ciò non riportava traccia l'unica cosa che si può fare per pulire il telefono da spicy e risettarlo il sistema è compatibile con ios e android ovviamente si può visualizzare un demo che non faremo perché ve lo mostro io bene cliccando sul tramontano 41 che è la mia mail con la quale mi sono registrato ecco qui ragazzi come potete vedere c'è una dashboard c'è una pagina generale in cui incredibilmente mi dice sulla destra l'ultima posizione conosciuta al lavoro ero in quel momento sulla sinistra i contatti con i quali ho più frequenza di chiamate e accanto col numero c'è anche il numero di volte con il quale io interagisco con quei contatti mi dice informazioni sul dispositivo e non solo anche i contatti con i quali interagisco di più a livello messaggistico a destra l'attività del telefono voi direte finisce qui ebbene no se clicchiamo sul tasto chiamate addirittura mi dà tutto e ripeto proprio tutto quello che ho all'interno della mia rubrica telefonica e come potete vedere la durata e addirittura sono chiamate persa in uscita i messaggi ebbene anche qui ci sono tutti i miei messaggi tutti i messaggi che in questo momento io ho sul mio dispositivo e la cosa bella è che nel momento in cui voi andate ad applicare spicy il telefono anche se venisse cancellato qualche informazione in fase successiva all'installazione di spicy sul telefono stesso comunque resta qui all'interno del suo cloud io l'ho fatto col mio telefono perché ripeto non è legale mi sono autospiato ma vabbè addirittura app social se io cliccassi qui su whatsapp e clicco su stato funzione ondo il consenso a ciò esso riesce a spiare tutto ciò che faccio raffi mio fratello ad esempio ha inviato un messaggio vocale di 19 secondi non posso ascoltarlo se io facesse una ricerca ad esempio con la mia fidanzata che ho salvato in rubrica con amore potete vedere che in questo momento mi dà tutte le conversazioni che io ho con la mia fidanzata ma proprio tutte 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 qualsiasi cosa io posso scrivere con lei e addirittura in fase successiva posso cancellare viene salvato qui la stessa cosa per facebook tutte le mie operazioni addirittura quello che fanno gli altri nel mio profilo tutte le notifiche che facebook mi dà e posso fare lo stesso per snapchat skype e così via quando cliccando su sto già per iniziare do il mio consenso non solo cliccando sul tasto posizioni posso vedere qui sotto praticamente le mie posizioni dove sono stato oggi 15 settembre e il tempo anche cioè in che momento ero lì c'è la cronologia di navigazione ci sono i contatti del mio telefono c'è il calendario c'è tutto ciò che all'interno del mio calendario è salvato esso me lo ripropone qui in una maniera straordinariamente performante precisissima liveamenti di informazioni app ebbene applicazioni tutte le applicazioni che ho installato che non sono già installate sul mio smartphone attività di app cioè quante volte oggi ho lanciato whatsapp ben 61 volte una cosa impressionante è precisissima e non solo c'è foto c'è anteprima video c'è la registrazione chiamate io oggi ho chiamato l'amministratore di un appartamento ebbene c'è la registrazione oggi una persona mi ha chiamato chiamata in ingresso pochi minuti fa ebbene c'è la registrazione di chiamata credibile vero ebbene non è finita qui addirittura io posso tranquillamente fare uno screenshot in qualsiasi momento a casa mia di quello che il mio compagno la mia amica il mio amico mia figlia mio figlio sta facendo col dispositivo adesso addirittura mi dice che il mio dispositivo è bloccato perché in effetto è qui sulla mia destra bloccato comodamente sul comodino una cosa incredibile ebbene infine ma non meno importante c'è la registrazione surround questa registrazione ci promette cliccando su registra di percepire l'audio al dispositivo e mettere la scannerizzata qui in maniera molto molto chiara a dire il vero in questo momento non esiste questa via cioè io non non ero in questa via quando ho fatto questa registrazione quindi non è stato ben troppo preciso devo dire la verità ma ha funzionato non vi faccio sentire la la registrazione perché in effetti è privata ma vi assicuro vi assicuro che ha funzionato e funziona anche a dispositivo spento il più delle volte bene ragazzi come avete potuto vedere è una cosa straordinaria cioè incredibile è di una potenza informatica questa cosa assurda ovviamente completamente illegale fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate se avete mai usufruito di una cosa del genere se pensate di usarla non so scrivetemi cosa ne pensate lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi per non perdervi tante altre chicche informatiche come questa mi raccomando sui lati di questa infografica potete cliccare su altri due video quello che più vi aggrada e se cliccare al centro vi iscrivete al canale ciao ragazzi